Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata su CreaDiverse Non ci siamo spostati di una pezza da qui, abbiamo solo allargato un attimo la zona curata Come potete vedere E qui in ferro e là sopra l'albero hanno dato una cesta Quindi iniziamo la puntata a prendere una cesta di questa di questa zona Che c'è sta? Cacca? C'è del coal C'è cacca No aspetta c'è una pattern C'è una pattern che si chiama Charged Wood Minixella A cosa serve? Il Charged Wood Non lo so, prendi, prendi tutto Però come scendiamo da qua? Tuffiamoci No, non mi sono fatto nessun danno Se salti, finì esattamente qui Ciao Ardug Io sono andato a finire per terra Eh sì, che stai facendo all'agio? Stai allargando la piattaforma, credo, no? Ah ok Vabbè, io intanto che faccio? Che faccio? Proviamo ad andare all'esplorazione di qua Io provo a mettere la cosa La torcia, vede se purifica Ah sì, l'ho provato pure io già Da qua purifica, continua a purificare se la sposti Però la stai pure sotto Guarda, ciù, 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 ciù No L'ho ripresa, sì, l'ho ripresa Ah ok, però vedo i blocchi ancora Come se non l'avessi levati È un problema mio No, io non... Mi sa che è quel lato Io andrei da un altro lato Ma sto capendo che cosa stai facendo Stavo mettendo questa torcia qua per purificare Però ogni volta la metto mi sparisce Si sta bugando tutto Ok ragazzi, siamo rientrati E non vedo più nessuna texture Poi non vedo nessuna Quindi il problema è il tuo What? Non ne vedo più una Ecco, l'hai riapparsa Ha caricato i chunk, ok Sta a fare peggio le minecraft Che fai, i chunk? Che fa? Oh, io non vedo niente Ok, ok, è riapparso Ok, adesso mi ha riapparso tutto Ok, adesso non dovrebbero più sparire i chunk Stavo shiftando per rimanere col cubo Stavo a fare il solito sbaglio Mi sa che la purificazione è parecchio pesantina Non riesco a più a risalire Ah, stavo con... Che cretino Stai con la C Stavo con la C, sì Wow, qua pure l'albero è diventato col tronco normale Guardate Eh sì, perché l'ha purificato Eh no, ma di là... No, di là il tronco fa male Ah no, anche di là Oddio, quando purifica la zona Se io mi muovo, mi giro mentre sta purificando Mi scatta tutto Devo stare fermo fino a che non ha purificato Guarda, quel povero mob sta morendo No, sta venendo purificato, sì Se fa danni Vado a provare a ammazzarlo prima che... Io non mi nagli? Sì, infatti, con via le menaglie Meno, mari, mari, mari Mari, mari, mari Tiriamo gli ultimo colpo Non vedo più niente Eh, ci ha flashato Eccolo Sto tipo morendo Oh, ma non muore No Quanto reggi? Ti cura anche lui, mi sa Eh, lui c'ha un filo di rigenerazione Però, cacchio È morto No, erano due Sarei nell'acqua, maledetta Nella zona maledetta Io no Io sì Esiste nella zona maledetta No, adesso sto nella zona maledetta anch'io Però c'è un contrasto tra cure e zona maledetta Quindi non sto morendo Allora, vedete se vedete qualche minerale Oh, c'è una cesta Oh mio Dio, la roba dentro La grand art è il torch Eh, c'è una... Lol Il tetto, Winfrey, c'è il tetto per te Il tetto blu Dov'è? Dentro la cesta Il libro, il libro Prendi il libro Lo prendo io la pattern Abbiamo pure sette lampade a gas Poi prendete tutto il resto Ok, ho preso l'altro Mazza il culo Bella, bella Cioè, noi senza vedere le cose troviamo Davvero Allora Noi dovremmo trovare la lumite Dove possiamo prendere la lumite? Si trova qua in giro Sembra strano però Non ho trovato niente di simile fino adesso Eh, non è facile trovarla Però si dovrebbe vedere Brilluccica Vedete un po'? Eh, l'ho trovata Eh... Dove? Trovata pure io Eh... Sta in culonia In alto No, no, no L'ho trovata A me sta vicino Fermi, eh Metto la lampada Fermi Ah, sto ancora col C io Ok, ho pensato Mi sbaglio sempre con quel cavolo di C Ok, sta venendo da te Sì che c'è un maiale che vuole attaccarti Dove vedi il maiale? Eh, sta dall'altra parte Perché si sta dall'altra parte Magari ci vieni, cioè Ah, sta a murire cure Mortto Vedo qualcosa che lampeggia Il problema è che vedo tutto quanto che si rimposta Raga, faccio una... Riavvia il volo Sì Quello ve lo faccio Eccolo Quella è l'umite Sì, è l'umite Ma qui c'hai messo la roba? Sì, ok Sto a mettere la lampada Fermi Ecco qua Mi si vaga tutto Eh, a me ho già Vagato tutto Vabbè, faccio una cosa Io riloggo il volo Ok, dovrei essere fixato Vediamo un po' Eh, qui c'è un'umite nod normale Basta vedere quelli lì dove hai messo l'oggettino Ok, lo vedo con l'oggettino Perfetto Qui, qui, qui Ma... Oddio, che è sto coso? Oh, il pappagallo, il pennuto L'uccellone L'uccellino L'uccellino La gallina Eh, non spero Non ci sia la gallina Vai, aprite, prendete Ho aperto Ah, c'è il mentale pieno Mr. Marduk Che devo fare? L'estratore Ah, arrivo Tre Vai Messo Ce ne stanno altre Provate a controllare intorno No, vado a controllare io Però mi sa che mi serve la torcia No, qua non c'è niente Meno sotto No, manco sotto Dovremmo mettere altre torce, regà E andò a vedere Torciole Torciole Eh, devo purificare qua Riccardo Morto qui viene E vede la cosa clou Qual è? La torcia nell'acqua Geniale Speciale, è una cosa nuova Lol Allora, l'umite Messo Poi lo metto Poi pure a diamante? Eh beh, sì Sì C'è n'abbiamo davanti Ah, però da vedere se c'è St'altra l'umite qui intorno Eh, sni Sni Oh, c'è la corrente che mi porta via Sì, è vero Non c'è altro l'umite Non c'è altro l'umite No, non c'è Allora metto due cosini qua Tanto qua, pure dai mob Se troppano sti advanced Ho finito le torciole Ma io c'erano a 66 Quindi Da se me dici dove? In acqua, tipo Come sto facendo adesso Dov'è buio? È tutto buio In effetti Mi fai baggare tutto Quando fai sto cambio di junk Ebbè È bellissimo Porca miseria Mica tanto Guarda come scatta Ancora bisogna di qualche fix È un cambiamento gigante però, eh Eh sì Stiamo modificando l'intero biome Lo stiamo facendo diventare totalmente purificato Praticamente Oh, la gallina Vedete che figa come cosa Divertente E dietro c'è un altro mob Ti permette di purificare tutto il tuo mondo Ok, mio Ma c'è l'inventario pieno Che c'è? C'è sta qua dentro Oh, c'è una cesta C'è una cesta di quelle viola Venite qua Dove sto io? Mordug Dimmi Vieni qua, aprila Aspetta, c'è un pappagallo Un uccellone Un uccellino Un libro Un uccellino E muori È piuttosto l'uccellino, eh No, mi sei consumata la spada di diamante Non ho più la spada di diamante Vabbè, aprite la cesta, dai Mi ha l'accesso Ci sta un sacco di roba, raga Oh, altri advanced extractor miei No Minjati Vaffanbeccolo Lol In totale per produrre 5 lingotti su 14 minuti di tempo Pazzo Pazzo davvero Ok, arrivo qui in ferro Non ti lascerò più solo, arrivo Per la patria Per la gloria di Grayskull E per la fava di Mordug Come per la fava mia? Che ti fanno la mia fava? Non si tocca la mia fava Ah, eccomi Che dici? Prova a scava sotto terra Per vedere se vado da qualche parte La c'è del diamante Prova Ehm Ritrova direttamente Ritrova lì Direttamente alla base? A fallo? Cioè direttamente da Da lì? Può fare Dai, fai Fai Vedete le porte Il cancelle De Quimper Che ho fatto? No, mi si autocancelle Il teletrasporto Alla cosa De Quimper Ok È tornato normale Non ho fatto niente Al teletrasporto De Quimper Non ho detto A Quimper Dai, ti ho ricetto Quimper Al teletrasporto Di Quimper Va bene Va bene Faccio vinta Non ci credo Non riesco A trovare Altri nodi Di Altri nod Che cavolo Di nodi Non riesci a trovare Altri nodi Ragazzi Ragazzi Ho raggiunto Ho raggiunto Alla fine del mondo Cioè Più di qua Non si va E ci nascono i maiali Dalla fine del mondo Ah no È il maiale tuo No, questo è sceso Ok No, sono morto De che? De tutto Guarda Alla fine del mondo Quindi questa è la fine Questa è la bedrock Di questo gioco Ragazzi Di gradi verse Wow È bello Come è fatto Più sotto di qui Alla fine È più sotto di qui Non si può arrivare Che avete fatto? Riu Direttamente Allo Stallo spawn De quimfer Wow Cioè questa è la fine Quindi abbiamo superato Tutti i lai Questo è l'ultimo lai Per diventare fighi fighi Dobbiamo solo farmare Farmare e farmare End of the world Le prossime puntate saranno Ci facciamo casa bella Sì Ci facciamo casa bella Sotto terra E finiamo le armature Fighi con il Meaning Quello figo Fatto dell'umite Yeah Yeah Pede Pede Eh Mordo culo Eh lo sapevo io È bellissimo però Com'è la fine del mondo Dopo in quel senso di Il fine del mondo Sì Sì Poi ci sta scritto The end of the world Eh no End of the world Sì è vero L'alturio Poi mi sono messo Poi mi sono messo Ma no È figo perché Sembra tipo vetro E sotto non sai che c'è Stavo Ma non puoi uscire Come se stai dentro Una cupoletta E fai Voglio uscire No In pratica È uno stupido dopo In uno stupido mondo Yeah Allora da adesso in poi Facciamo gli impianti No Sì sarebbe davvero figo Va bene ragazzi Per questa puntata Diciamo che tutto Abbiamo trovato l'allumite L'abbiamo trovata anche Di tanta In tanta quantità Eh Bisogna aspettare tanto Perché ci vogliono 22 minuti Soltanto per estrarle 14 minuti Per farne soltanto 4 E La cosa bella Abbiamo visto anche Com'è la fine del mondo Quindi più sotto di qua Non ci si può andare Questa è la bedrock Dei creati verse E In pratica Siamo arrivati All'ultima dimensione Di questa zona Quindi Cosa possiamo fare Salutarci E vedere gli ultimi crafting La prossima volta E se vi piace E se impariamo Come si fanno Anche impianti Facciamo qualche impianto In stile vanilloso Come si fa su minecraft Ok Yeah Quindi La prossima puntata Yeah Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima